Un'emozione forte, sinceramente. Rinato, penso che sia la parola giusta. Può sorridere al mondo. Sono Montini Luca, vengo da Peschiaro del Garden, provincia di Verona. Ho iniziato a perdere qualche dente sulla parte superiore. Aspetta, 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 aspetta. La parte superiore era praticamente tutta compromessa. La parte inferiore per metà. Mi hanno fatto un preventivo e effettivamente il prezzo era molto interessante. Rispetto all'Italia andavo a risparmiare più della metà. Uno entra, trova pulizia al 100%, igiene assoluta. Lo staff, i ragazzi, tutti premurosi, cordiali, attenti alle tue esigenze, cercano di accontentarti in tutto. Che dire, meglio di così non saprei, sinceramente. Alla fine abbiamo optato con i dottori di fare 8 impianti nella parte inferiore, 6 impianti nella parte superiore e ho messo tutto il materiale in zirconio. Onestamente dolore, vero e proprio, non ne ho mai provato neanche il primo giorno dopo l'operazione. Fortunatamente non ho avuto niente. Poter sorridere senza provare un po' di vergogna, poter aprire la bocca e dover stare attento a cercare di mascherare quello che non c'era. Già come fossero i miei da sempre. Tirana è una città bellissima. Da visitare, lo consiglio a chiunque di venire e prendersi anche solo una settimana di vacanza per venire a Tirana. Tirana merita. C'è tanto da vedere. Non parliamo del sud, il mare del sud è qualcosa di eccezionale. Io l'adoro. Io sono venuto per i denti e tornerò in vacanza quest'estate agosto. Grazie a voi e grazie ancora perché io sono rinato. Viva Gremi Clinic!